Madame Fidetta di Lavo, signora delle terre di Nola, esperta oratoria e benefactrice della corte principesca e magistra arti liberali. Speziale, dottor Nicolaus di Novella, ervaron palistiane e espertos, con Isabella del Geno e Trevecca IV, archivista, angelica da Alta Villa e medichesse della scuola medica salernitana e un discipule. Gli orafi fiorentini, mastri Leonardo e Damiano da basso, con gli allievi di bottega e la nobildonna Giuditta Acerioli. Il barone Attilio De Regi, signore di Casare Monferrato e nobildonna Maria Elena Federici. Sbandieratori e musici dello Stato di Diano. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.